Gli investimenti sul fotovoltaico sono ormai da anni piuttosto concentrati in diverse aree rurali del territorio. Tante procedure sono in corso nonostante il totale insuccesso di quello che fu il vero capostipite del progetto ciliegino proposto allora dalla cooperativa Agroverde. Negli uffici regionali di recente è stata trasmessa tutta la documentazione tecnica per la procedura di valutazione di incidenza ambientale rispetto al progetto di un sistema agrivoltaico proposto alla società HF Solar 14 con sede a Palermo e che fa riferimento al gruppo 5e Italy SRL. Si tratta di un investimento concentrato nelle aree di Timpazzo anche adiacenti alla discarica. La documentazione tecnica e le relative planimetrie sono state inviate alla regione. Sulla base di quello che riporta una delle relazioni illustrative arrivata agli uffici palermitani l'intervento consentirebbe pure di riprendere la vocazione agricola dell'area combinandola con la volontà di introdurre coltivazioni per uso non alimentare nonché coltivazioni con abilità di fitorimediazione in modo a ripulire il suolo da elementi contaminanti proprio per la presenza del sito di Timpazzo. Nella relazione si escludono impatti rilevanti sulla base e lo studio di incidenza ambientale inerente al progetto di installazione dell'impianto agrivoltaico avanzato gelatin pazzo sulla scorta e le analisi ambientali nell'area pertinente. Il progetto si può affermare si legge nella relazione che non si verificheranno effetti significativi sulle peculiarità ecosistemiche e biocenotiche né sugli habitat né sulle specie biologiche presenti nel sito Natura 2000. Sempre in regione è stata completata la fase di verifica di impatto ambientale di incidenza con giudizio positivo per un altro progetto agrovoltaico quello della società Solar Clean Energy Italy 23 SRL con sede in provincia di Varese. È previsto in contrada tenuta bruca una delle zone dove sarebbe dovuto sorgere il max investimento ciliegino. La diffusione massiccia di progetti di questo tipo secondo chi si occupa di tutta l'ambientale rischia però di occupare estensioni notevoli sottraendole alla produzione agricola locale.